Quota 24 team iscritti raggiunta, manca solo una settimana all'ariavvio del trofeo Hoffman pronto a rendere più calda a Piazza delle Fornaci nel cuore di Villa Verla a partire dalla serata di mercoledì 5 luglio. Torna dopo 5 anni di break l'appuntamento fisso dell'estate più atteso del Vicentino con la palla al centro per 3 settimane di serata in serata, finali venerdì 28 luglio ad applaudire calciatori calcettisti che si affronteranno sul rettangolo di gioco di nuova installazione un manto all'esordio a Villa Verla che gli organizzatori del trofeo nell'edizione numero 11 hanno inteso mettere a disposizione per garantire lo spettacolo sportivo anzi dell'evento tra gli eventi, visto che tra le proposte musicali di tendenza e street food una serata non sarà mai uguale all'altra come garantisce la direzione artistica del trofeo quasi unico nel suo genere in Veneto inaugurazione fissata per mercoledì 5 luglio alle 19.45 con la cerimonia di apertura e con sorprese rispetto alle edizioni precedenti, tutte da svelare dal vivo saluto delle autorità, degli sponsor che affiancano il pub Hoffman nella buona riuscita della riedizione del torneo e subito le prime partite d'esordio dopo i sorteggi dei gironi e la pubblicazione dei calendari con tutti gli incontri della prima fase e il tabellone dei playoff che porteranno a decretare i più bravi nel gran finale di fine luglio e il tabellone dei playoff che porteranno a decretare i più bravi nel corso